buonasera a tutti sono qui a ringraziare gemi perché dopo qualche anno dalla costruzione di questo cammino ho risolto finalmente il problema della fuoriuscita di fumo dal cammino stesso la zona in cui abito è una zona molto dentosa e potete immaginare che la metà delle giornate invernali io questo cammino non lo potevo assolutamente accendere perché il fumo usciva dal camino infatti come potete vedere c'è una parte questa parte qua è completamente annerita dal fumo che fuoriusciva ne abbiamo provati tutte per evitare questa questa fuoriuscita di fumo allungando la canna fumaria mettendo comignoli antivento ma non è stata mai risolutiva poi navigando su internet un giorno sono entrato sul sito della gemi e ho visto questo aspiratore elettrico parlandone con qualche amico qualche conoscente anche loro avevano risolto lo stesso problema mio installando anche loro un comignolo elettrico della gemi e l'unica l'ultima opzione che mi è rimasta per poter soffrire di questo del mio cammino che poi costruito dopo tanto tempo con la voglia con la voglia proprio di avere un cammino in casa perché una casa di campagna senza cammino è come se mancasse qualche cosa con le recensioni positive dei miei stessi conoscenti i miei stessi amici quindi non solo viste su internet ma di persona e allora mi sono deciso io ho comprato un aspiratore gemi vedete in questo momento è in posizione 2 c'è un leggero venticello fuori e come potete vedere non c'è traccia di fuoriuscita dei fumi la fiamma è una fiamma viva non molto alta perché poca legna c'è in questo momento nel camino ma vi assicuro che non c'è nessuna fuoriuscita di fumi guardate niente mentre prima si creava sempre un vortice un vortice un vortice qua anche quando il vento non c'era e quando si creava questo vortice una parte fuoriusciva e veniva qua sopra annerendo le pietre e anche la tavola di legno e niente siamo contenti stracontenti di questo aspiratore e lo consigliamo ovviamente ad altre persone perché a noi veramente ha risolto un grande problema e ripeto non è solo una questione di averlo visto su internet su qualche video di cui di qualche acquirente io l'ho visto di persona proprio funzionare a casa di amici case di conoscenti e vi devo dire che è così io mi sono deciso a comprarlo perché l'ho visto all'opera e effettivamente risolve il problema adesso vi porto a vedere la canna fumaria e l'installazione dell'aspiratore ecco qui vedete l'aspiratore gemi montato sulla canna fumaria perfettamente funzionante alla velocità 2 come vi ho fatto vedere poco fa e niente finalmente ho risolto il problema del ritorno di fumo in casa del mio cammino un cammino perfettamente funzionante adesso e grazie a gemi per aver risolto questo problema consiglio vivamente a tutti l'acquisto di questo aspiratore perché a me ha risolto definitivamente il problema